Bentornati ladies and gentlemen In questo nuovo video sono sempre io Pantanovanta E quest'oggi è tornato pasta Con le patate Con le patate E siamo praticamente su WeCheat Che è un ProPant nascondino Pasta la smetti di saltare con sta panza ProPant nascondino non su Gmod Un gioco a sè stante e dobbiamo trovare Camper Alone Questo gioco è una merda Camper ho paura io Ho fatto una cazzata in mare Anch'io Hanno fatto una cazzata pasta Pasta Cosa c'è c'è qualcuno qui pasta Che cazzo è sta candela che cammina da solo Ma dove Forse l'ho portata io Oh c'è la scatola che si muove Il camper è già passato Quanta velocità non ti hanno ucciso Il camper è già passato a miglior vita Io lo odio questo gioco Lon ha visto tutto quindi è qua in zona No è ovvio che vedo tutto ho visto La sagomina blu del gioco Pasta che succede cosa hai visto Ah Ero tutto tranquillo tranquillo No non mi hai visto Basta hai fatto tutto te 70 danni Due last hit Ci sono tutti Ehi sono livello 1 Livello 4 Di cosa stanno parlando C'è tutte le abilità pasta noi non abbiamo niente Allora a sto giro pasta siamo noi witches Cosa facciamo pasta dove andiamo Ho un'idea pasta Nooo Aspetta tipo questo Luca Cosa combo Ok combo basta Luca mettiti qui Ok dai andiamo Bravissimo Basta Go pollo Non è sensata sta cosa Pollo scelgo te Se mi scappa il tasto destro ti butto a terra eh Pasta non farlo Luca Che mi nuggets vai No mi è andato sul cammino No non fare pollo arrosto Pasta no no Luca che cazzo fai Luca mi stai spingendo Scusa pasta e Cosa state facendo i miei porcelloni Pasta Chi è questo qua Camper camper sono qui Ho visto la gallina un po' eccitata Luca Vieni qua l'ho vista eccitata Luca dobbiamo fare una cosa Siete qui eh Basta Ecco 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 Vieni giù Vieni giù Porco No E' uno Ok Aspetta l'altro è qui No è qui la scala No è qui la scala che si muove Cosa cazzo si è diventato Il formaggio No Ok Patate Fanto patate Va bene A sto turno a toccare noi Pasta sei pronto? Sei proprio brutto pasta Non hai visto te Vabbè siamo uguali Allora sono così brutto Come si fanno i taunt? Con uno e due Cosa? Ah è di te pasta Che è sto rumore? Ma chi è che rutta? Siamo noi Luca dove sei? Pasta sono qui Sono qui in questa stanza Che ti ho visto Il pollo non mente Ragazzi Non vi vedo Dove siete? E' qui E' qui E' l'un Aiuto Mi rifugio No mi rifugio Un cavolo No 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 Mi picchiano Mi picchiano Grandissimo Peccato che non è come Gmod Dove i prop vanno negli altri prop Se no camper Sarebbe davvero finita per te Camper Ok l'ho trovato Luca Dove dove? Ah è qua in zona camper Si 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 Aspetta che lancio un altro pollo per sicurezza Guarda il pollo che è impazzito Ok allora è proprio in questa zona E' una Oh Eccolo Ciao camper Vabbè faccio i colpi Giuca C'ho un'ideona Anch'io Anch'io pasta Sai dove possiamo andare? Vieni 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 Vai 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 Seguimi pasta Cosa fai? Vieni vieni qua Dove sono gli oggetti? Pasta un problema Vieni qua Anche più di uno Basta cosa stai facendo? Fermati Ok Dove siete ragazzi? No mio Dio Basta cosa fai? Cosa urli? No Luca Basta un'idea Non farlo Oh oh Come non mi ha visto Come non mi ha visto pasta Basta questo è Ho sentito qualcosa Anch'io Basta vieni qua Il posto più insospettabile Del mondo questo Qua siamo proprio sicuriti Dalla fine del round proprio Senti di come sfottono Basta continuare a tantare Oh oh Il tuo il tuo E' qua il mio polo è infatti Ma non capisco dove sono È geniale questo Non ci troverete mai Questo posto è geniale Nessuno avrebbe mai in mente di cercare qua della gente Ma dove siete? No davvero E li sento qua Camper forse dovresti tornare sui tuoi passi Vai scale Dove? Siamo in a Basta smetti di urlare Camper sono all'inizio dello spawn Sono nella nostra stanza di spawn Come sono qua? Sono nella nostra stanza di spawn Ma Ma non sono qui da sempre Non lo so Basta perché? Basta perché? Ho dovuto abbandonarti per forza Basta è finita No Luca 20 secondi Non mi troveranno mai Basta Oh mio dio Camper Sei nel top 9, 8 Luca non mi troveranno mai Mi urlo in faccia No Porco cane Cos'è questo? Ho sbloccato il nuovo potere Oh che top Che top Oh mio dio Che bello è questo potere Basta mi sa che può appendersi i muri forse Non lo so Qui qui basta Ho detectato qualcosa Ho visto, ho visto, ho visto Dov'è? Looon Non so che è lei Non ci sono io Non vi vedo un po' in verità Ma Guarda dai Camper Sta ride Ma non lo vedi in realtà? Ti dico qualcosa che si muove Ma chi è? È Camper È passato dietro di te È sparito È sparito Vedi che è passato dietro È una bellissima Quella abilità grandissima Questa roba Basta qua Sparisce No No Cazzo Non ci credo Voi non avete capito un cazzo Voi non avete capito niente Mi avete preso semplicemente perché L'originale Cioè io Sono andato addosso alla mia coppia Era tipo Era tipo il potere della duplicazione Era tipo la ruta Sì, esatto Pollo Dica qualcosa No Mi avete capito Continuando a muovere io Basta tu lo vedi 16 secondi Eh no Luca 10 Sto lanciando tutti i poli di stavono Ah io mi diverto Boing Boing Ciao No Basta Avanti C'era sta stanzia Non l'abbiamo proprio controllato Luca Livello 3 No Col cavolo Adesso segui ma Camper Si Camper se vieni qua da me Hai un piccolo vantaggio No Dove vai Aspetta che mi sposto Basta fammi spazio Oh oh Basta No Non è geniale Non è geniale Vieni qua Vieni qua Uno è morto Basta Perché hai fatto questa Dove vai Oh no Ragazzi Ho visto Poche cose più rapide di questa Hai già fatta questa battuta Camper Vediamo se vedo qualcosa da qui Devo nascondermi Oh oh Sta arrivando Voi non sapete ma Dal Dalla metà Si lo sappiamo dalla sopra riesci a vedere di sotto Oh 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 Chi è quello? Chi è quel libro che vola? Non mi vedi? Si ho già cambiato prop Secondo te sono ancora un libro Sì Fanto Oh non Fanto Salve Cattivo fanto Salve non Ah cacchio stavo atterrando Guarda la mia copia come si muove Oh sei qua in zona camper Questa è la copia Camper non sarebbe di tranquillo Gottagovfat Ciao camper Come? Come? Allora camper hai idee? Vabbè ti seguo Qualcosa di grande e grosso Cosa?! Ma perché sono diventato... Aspetta, vai, girati! Girati, non stanno così! Hai sei secondi! No! No! Dai! Come state facendo, schifosi? Fermati, fermati che ti salgo sopra! Ecco! Fermati che ti salgo sopra? No! Fermo! Sta arrivando! È lì! È lì! Oh, oh, ok! Camper, non è geniale! No! No! Addio, camper! È stato un onore! Parca montana! Ma che merda! Perché non possono stare in piedi i divani su questo gioco? Oh, oh! Oh, oh! No, 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 no! Dove? Cosa? No! Ehi! 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 Vieni qua! Ehi! Ehi! Vieni qua! Vieni qua! Ehi! Vieni giù! Vieni giù! Tanto lo sai che devi venire giù! Da! Fa! 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 Cane! Oh! Ok! Adesso giro sono colloni in team! Vediamo! Oh mio dio! Sì! È stata una pessima idea! È stata una pessima idea! Non è una pessima idea! Non è una pessima idea! Perfetto! Perfetto! Sono perfetto! Non mi può beccare così! Sai cosa? Cosa? La vita è battascare! No! 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 NOO! Ah ha! figli! Muoi caliente e Nein! Muuu caliente! Sì ma Crizzo! Dagli anche le le coordinate fiscali! Go bollo! No! Ma che c'è lì? NON! NONO! Oh! che c'è lì? NONO no! No понятно o no! Aiuto! 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 Oh! Aole a cazzotti eh sì ci ha pensato anche prima non è semplicissimo possiamo fare non trasformare dai dai gatta go fast No perché mi hai buttato di sotto perché tieni qua corni ce la fai devo girare di qua perché non ho molta no non ho più Non ho più mana non ho più mana Non ho più mana Aspetta qua aspetta qua e arrivo Mi refullo il mana e arrivo Cosa? Oh che cazzo Perché hai avuto la mia stessa idea di prima Cosa ho fatto a trovarti subito Hai avuto la mia stessa idea di prima quindi da l'inizio stavo contando il numero di candele e quindi vuol dire che quanto ho avuto la tua stessa idea Ma sono sempre quattro le candele una era per terra Aaaaaaah nooo Eccolo qua Nooo Lo sei? Vieni qua Ma siamo... Cosa è successo ragazzi Scusate Ma porca di quella iper porca ragazzi Ok Luca il mio pollo ha visto qualcosa in questa stanza Dove? Il mio pollo ha visto cose Dove pasta? Ecco guarda Vede qualcosa Che cosa è? Dov'è? Nooo Ma... Pasta io penso che sia... Oh Dio! Come hai trovato pasta? Era una cazzo di pera Non sapevo poteste passare Era una cazzo di pera dentro il cammino C'è una specie di tunnel Pasta witchies Ma come witchies? Ma io sono con pasta Nooo Come no? Come si fa a change team? Cazzo In basso a sinistra Nooo Basta Ma no Perché camper per voi? Che rambe? Che rambe? Ragazzi ma fate change team Switch camper Ma il gioco è buggato Switcha Non mi tiene aperto tab Non me lo tiene premuto per troppo tempo Pocco di... È buggato il gioco Devi premerlo una volta Ah ecco È riuscito a farmi bestembrare Ah si ma da witchy Perché io... Io volevo lanciare le patate vai Eh... Luca qualcosa qui Vieni vieni Hai sentito? Ho sentito Oh l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto No c'ha visto basta vieni qui vieni qui Vieni da qui Vieni da qui L'hai vissi? Go pollo Vieni da lì basta Ti uccidono Come on come on Nooo Basta Preccato E fuori uno Come si è girato E' finita Nooo Ok Vediamo Fammi spazio Ma non è un posto leggendario Aspetta che ci blocca Come no? Basta Fermo Fermo Qui Camper Nooo La cosa è di stare fermo funziona solo con il dinosaurio Contro camper Non si può fare Ragazzi direi che per questo video è tutto Io ringrazio l'on pasta e camper A me fa schifo la barilla A me fanno schifo i dinosauri Ecco perchè non avrò mai un placement né con i dinosauri né con la barilla Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao ciao